Allora, no, aspetta un attimo che c'è un'altra sorpresa, c'è un'altra sorpresa, è una sorpresa per Alice Allora, Mattia devi sapere che Alice è l'unica ragazza che si è iscritta al torneo e è arrivata fino... Non mi ricordo Ai sedidesimi se non ricordo, perché nelle prime sedi, ai quarti, ai quarti E quindi in omaggio avrai la maglia della Roma autografata da Mattia Destra Grazie mille, ci vediamo domenica